Un ruolo importante per la Fincantieri lo possono giocare gli istituti di credito e da allora c'è l'appello del Presidente Spacchia affinché ci siano proposte serie e concrete da parte degli istituti di credito marchigiani. È importante che per l'arrivo del Papa, così come chiedono i sindacati, ci sia un cantiere vivo, un cantiere dove almeno una parte dei lavoratori sia impegnata. Con l'amministratore delegato abbiamo parlato, indubbiamente la situazione è leggermente migliorata, alcune commesse ci sono, si tratta di costruirle sotto il profilo finanziario e quindi è necessario anche l'apporto delle banche locali. In modo particolare delle banche regionali locali come Banca delle Marche e Banca Popolare di Ancona che fa parte del gruppo Ubi Banca. Altre banche nazionali hanno dato le loro garanzie per realizzare questa operazione finanziaria come Unicredit e Banca Intesa, quindi auspichiamo, ci stiamo movendo in questa direzione, che anche le banche regionali partecipino a questa iniziativa.